Siamo qui a Didacta 2023, così come nel 2022 abbiamo portato i nostri display interattivi per la parte education, quindi dedicati alle scuole. Questo è il display interattivo RP della serie Pro ed è il top di gamma dei nostri prodotti. All'interno troverete delle specifiche legate alla salute degli utenti. Noi abbiamo il pacchetto Classroom Care, che è un marchio registrato BenQ e che comprende la soluzione iCare, lo schermo gel resistant e anche un pacchetto di sensori per la qualità dell'aria, nonché un ionizzatore d'aria attivo presente all'interno dello schermo nella parte più bassa. I valori che ci contraddistinguono come brand, soprattutto per i display interattivi, sono le tre S, semplicità, salute e sicurezza. BenQ è un marchio leader per i prodotti education. I nostri display interattivi hanno dei software dedicati e sviluppati per i docenti, ma non solo, in realtà, anche per i responsabili amministrativi, che devono magari comunicare direttamente con tutte le classi, con i docenti, con gli studenti, in un attimo, ma soprattutto anche per i responsabili T, quindi chi deve gestire poi alla fine il parco dei display all'interno della scuola. Infatti i nostri display possono essere gestiti da remoto con una sola applicazione gratuita che si chiama DMS. Come l'anno scorso, a Didacta 22, anche nel 2023, il risponso, comunque il feedback delle scuole e delle persone che hanno visitato il nostro stand e che lo stanno tuttora visitando è stato ottimo. I nostri prodotti hanno un'attenzione particolare appunto alla salute delle persone che li utilizzano, ai docenti e agli studenti, per cui sono prodotti che possono essere utilizzati in modo inclusivo per fare una didattica innovativa e soprattutto personalizzata.